Sono Manuela, sono il presidente del compresso bandistico la montanara di Selvino. Oggi per noi è una grande giornata, abbiamo organizzato il secondo concorso dell'altopiano Selvino Aviatico. Oggi è stata una giornata molto intensa, abbiamo sentito sei bande e abbiamo lavorato bene, la giuria è stata molto concentrata, è stata una bellissima esperienza, più di una settimana che la banda sta lavorando, assolutamente perfetto. Sono Fulvio Creux, sono stato direttore della banda della Guardia di Finanza e della banda dell'Esercito e questa sera ho il piacere di essere qui come presidente della giuria di questo concorso. Sono Simone Bergamini, maestro ormai da più di dieci anni del concorso musicale di Iardesio. Per noi è stata una bella occasione esibirci quest'oggi, è il primo concorso a cui partecipiamo e devo dire è stato bello metterci alla prova proprio dinanzi a un pubblico. È una giuria ovviamente di maestro di carattura internazionale, quindi bilancio positivo, esperienza assolutamente da ripetere. Sono Casafina Davide, direttore del Corpo Filarmonico Gaetano Donizzetti, un gruppo che dirigo da oltre dieci anni e quest'anno ci siamo messi in gioco e siamo venuti qui a partecipare. Il ruolo di un giurato è sempre abbastanza difficile, se li è giudicare davvero devi essere il più onesto possibile. Ci tengo particolarmente a sottolineare il fatto che uno ha già vinto partecipando al concorso. La preparazione che una banda media fa al concorso è sempre un momento di studio, di arricchimento e quindi è un momento di crescita. Mi chiamo Simona Girlanda, sono il maestro della banda Carlo Montanari di Lavagno. Questo concorso è stato una bella prova, per noi molto utile per crescere e spero che si ripetano i prossimi anni perché è veramente bello. È una bella esperienza. Sono Daniele Roncelli, sono maestro delle bande di Brembate Sopra e di Osio Sotto. Oggi partecipiamo a questo concorso, l'ho proposto ai miei musicanti e hanno accettato, quindi siamo qui e partecipiamo molto volentieri. Allora, sicuramente ho visto dell'agitazione oggi stesso, qualcuno bello teso, ho visto bello serio, molto incentrato sul pezzo. E' giusto così. Sono Roberto Milani, sono il direttore della banda civica di Dello. Oggi abbiamo aderito a questo concorso che per noi è la prima volta in assoluto. Quando il maestro Locatelli mi ha informato di questa possibilità, l'abbiamo accettata molto volentieri, ci siamo iscritti e ci siamo preparati con i due brani che presenteremo. Il brano d'obbligo è interessante, si distraca in parecchie parti, ci sono alcune parti lenti, alcune parti veloci, c'è una parte cantata, ci sono cambi di ritmo, un traseggio fra i clarinetti, le trombe, i sax, un dialogo fra questi strumenti, è molto interessante. L'ho avuto il piacere di collaborare con due ottimi professionisti come Armando Saldarini e Andrea Los, direttori di fama internazionale, ma soprattutto persone modeste e preparate al loro compito. L'ultimo ringraziamento va al direttore artistico, cioè diciamo la mente di questo concorso, Oscar Macatelli. Devo ringraziare innanzitutto tutte le bande che hanno partecipato a questo concorso, ai miei componenti del gruppo Amontanare e Servino perché davvero hanno dato tanto, grazie mille. Con 85 punti si aggiudica la seconda edizione del concorso bandistico altopiano Servino Aviatico, con un rullo di tabù, la banda cività di Dello. Grazie a tutti! Grazie a tutti!